Siamo con Roberto Crea, allenatore della Gallina. Roberto, allora, pareggio proprio allo scadere. Sì, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo modificato il nostro sistema di gioco perché inizialmente Fabio Grutello veniva da un infortunio e non l'ho voluto rischiare subito, perché è un infortunio muscolare rischioso, magari uno rischia di bruciare subito un cambio. Poi con la sua entrata abbiamo avuto peso in attacco perché Minniti e Dato sono bravissimi in velocità, sono due brevi linee, li hanno messi un po' in difficoltà, però ci mancava proprio la torre oggi che possono essere sia Fabio Grutello che Peppe Barillà. Grazie a tutti.